Ieri sera ho mangiato in una festa, devo dire la verità, non si sputa mai nel piatto dove si mangia, però non era buono. Pensate che il cameriere quando mi portava il cibo al tavolo, ho ordinato un piatto di tortellini in brodo, è arrivato il cameriere con il dito pollice nel brodo, ho detto mia moglie mi fa Stefano, lascia stare. Ho ordinato una cotoletta con del purè, è arrivato il cameriere con il dito pollice nel purè. Gli ho detto mia moglie cosa faccio, lascia stare. Ho ordinato il caffè, piattino, tazzina, dito pollice nel caffè. Ho chiamato il cameriere e ho detto scusi ma è possibile che lei tutte le volte mi porta da mangiare? Deve metterci sempre sto dito pollice nel cibo. Le chiedo scusa, è perché il dottore mi ha detto siccome soffro di ostosporosi di tenerlo in caldo. Ho capito ma senta se lo metta anche, sì sì lo faccio tra una portata e l'altra. Grazie.